Oggi abbiamo scelto per la nostra protesta un sito istituzionale molto importante nel nostro territorio, gli uffici della regione Lazio, gli uffici della giunta regionale del Lazio, dove sono il presidente e gli assessori. Chiaramente questo è per dare una risposta forte alla nostra richiesta di questo momento principale dei vicini ufani e dipendenti agli uffici tecnici comunali, per garantire trasparenza e imparzialità nell'esplodente delle funzioni come è garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Chiediamo perciò assolutamente ad Alemanno finalmente di darci una risposta su questo spinoso tema, su questo argomento che abbiamo sollevato. Noi chiediamo il trasvento ogni tre anni, periodico, ripeto, ogni tre anni, affinché non vengano date, in qualche modo, non vengano dati motivi sul territorio per poter agire in maniera illecita da parte dei vicini ufani e dipendenti agli uffici tecnici, cioè per evitare le collusioni col territorio. Alemanno a questo punto deve darci una risposta. Un anno e mezzo che è iniziata la nostra battaglia dopo aver incassato diverse opinioni, opinioni positive su questa vicenda, su questa eventuale soluzione per garantire la trasparenza e la legalità e per salvaguardare il Corso della Polizia Municipale, l'intero apparato comunale, da quelli che sono comportamenti illeciti e ce ne sono purtroppo. e le croneche giudiziarie ce li tramandano periodicamente, per quelli che sono comportamenti illeciti da parte dei vicini urbani, di alcune mele marce, dei dipendenti pubblici, appunto, dipendenti della Polizia Municipale. Purtroppo questo anche per garantire l'immagine del corpo stesso, perché le mele marce vanno assolutamente allontanate da quelli che sono gli uffici amministrativi, gli uffici pubblici, perciò evitiamo queste collusioni, evitiamo di dare proprio la possibilità, dare terreno fertile a queste persone, di poter essere colluse, perciò dobbiamo assolutamente trasferire ogni tre anni, ripeto, ogni tre anni i vicini urbani. Alemanno aveva dato a Cavallari, aveva passato la questione al personale Cavallari, non ci ha dato risposte ai Cavallari, stiamo ancora aspettando il suo incontro, l'abbiamo ottenuto con il suo capo sedeteria, che era anche d'accordo con questa cosa, però dall'amministrazione comunale non ci arrivano risposte certe e oggi vogliamo mandare questo messaggio proprio dal sito della regione, proprio dagli uffici della regione, un sito istituzionale tra l'altro che sta per essere rinnovato, appunto, il Consiglio regionale con queste elezioni e praticamente vogliamo, il nostro appello è quello di non votare questa gente, questo centrodestra, questo centrodestra che purtroppo promette, ha fatto programma, ma non ci dà risposte concrete, assolutamente no, questa gente non deve governare, abbiamo consegnato la città di Roma al centrodestra, tra saluti fascisti, tra rigurgiti e apologia fascista, rigurgiti di un passato purtroppo ancora non completamente cancellato nelle menti di certe persone e purtroppo tra proclami di sicurezza e legalità, si parla tanto della corruzione, interventi sulla corruzione, però abbiamo tanti pregiudicati in Parlamento, negli stessi partiti che vogliono apportare le modifiche, appunto, in termini, modifiche registrative, in termini, dopo i problemi legislativi, in termini di corruzione e noi vogliamo assolutamente che Alemanno ci risponda su questo tema, i vigili urbani devono essere trasferiti ogni tre anni da un municipio all'altro, indipendenti in uffici tecnici uguale, stessa cosa, stesso trattamento, evitiamo, facciamo una questione preventiva questa, non possiamo prescindere che la nostra battaglia continuerà, continueremo a incatenarci in tutti quelli che sono i siti istituzionali e informativi più importanti, perché Alemanno deve darci una risposta, assolutamente, e riterremo, ripeto, già da tempo lo facciamo, riteniamo colpevole politicamente, politicamente responsabile l'aggiunta comunale di eventuali comportamenti illeciti da parte di questi comparti professionali e lavorativi.